Finalmente si comincia anche con i piccolini, Slalom a Sestriere, quest'anno hanno diviso in due zone, ci sono quelli degli Sciclub della Via Lattea che stanno in zona Via Lattea e ci sono quelli della Conca di Bardonecchia che fanno le loro gare a Bardonecchia. Giornata stupenda, tracciato fantastico, speriamo, speriamo, al buio, se è brutto è stato pomido. Non si sorpassa, non si sorpassa, ma c'è la gara, tu filmi. Ma sei ancora allenatore te? Eh, guarda, purtroppo, purtroppo sì. Abbiamo aperto le gabbie. Tutti, ormai lo danno a tutti è il titolo. Regalato. Regalato, guarda. Giralato. Ciao, Giorno! Ascoltate un attimo! Ehi! Buongiorno! Buongiorno! La prossima, la prossima porteremo pane, salame e vino, ok? Questa era l'anno scorso e quest'anno l'anno del fruttur! Saluto un po' facile, dopo chi sbuele abbiamo Schladming oggi! La prossima, la prossima! La prossima, la prossima! La prossima! La prossima, la prossima! La prossima! La prossima! La prossima, la prossima! La prossima!